Ciao a tutti, vediamo in questo video tre semplici modi per farsi notare da un uomo ricco. In questo video voglio insegnarti cosa puoi fare affinché un uomo ricco ti possa notare e in qualche modo coinvolgersi. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti a questo nuovo canale, ci tengo molto che tu ti iscriva perché è un canale in cui emette energie e che ti potrà dare sicuramente dei benefici nella tua crescita personale, in amore, nelle relazioni, nell'autorealizzazione. E poi proseguimi sulla pagina Instagram appunto. Ma veniamo al tema, tre semplici modi per farsi notare degli uomini ricchi. Ora devi tenere presente una cosa fondamentale che se vuoi conoscere uomini ricchi devi fare come faceva Marilyn. Marilyn, che di fatto era un'attrice non tanto famosa, frequentava solo uomini ricchi. Presidente degli Stati Uniti, uomini ricchi, famosi, importanti. E un giornalista le chiese ma come mai lei, insomma, frequenta solo uomini di questo genere? Ma è una volta che si innamora, che ne so, di un impiegato, di un medico, di uno... E ci fa, ma perché io ho questi neanche li prendo in considerazione. Quindi questo vuol dire che se tu hai l'esigenza di conoscere e farti notare da uomini ricchi devi... non devi prendere in considerazione gli altri. Io non sto mettendo una questione morale, è giusto o non è giusto. Però ci sono donne che mi dicono, ma come faccio a farmi notare degli uomini ricchi? E beh, non devi farti notare, cioè non devi farti notare. Non devi frequentare luoghi dove ci sono uomini poveri, ad esempio. Faccio un esempio. Se tu vai nella balera di terza mano della tua città, in tempi in cui si può andare, diciamo così, sperando che tornino presto, non puoi sperare di incontrare uomini ricchi nella balera di terza mano, periferica, per giunta, ma devi frequentare dei luoghi che gli uomini ricchi frequentano abitualmente. Beh, un sistema utile, sempre in tempi, diciamo, è frequentare dei club abbastanza esclusivi. Soprattutto club dove si gioca a golf, devi farti uno sport del genere, o che hanno un'iscrizione alta di un po', è un investimento. Devi investire. Club dove almeno paghi, che ne so, una retta di almeno 500 euro al mese per entrare dentro. 5-6 mila euro l'anno, per, diciamo, togliere tutte le persone che non spenderebbero mai quei soldi per andare in un centro sportivo, che poi organizza anche feste. Ce ne sono, diciamo, in diverse città italiane, magari non nelle città piccole, ma nelle città medio-grandi ci sono. Oppure frequentare degli ambienti, delle feste, devi avere la capacità di introdurti lì, però. Mentre invece, se vai in un club, sportivo, goliardico, tu puoi trovare sicuramente la possibilità, è sicuramente la possibilità di fare delle conoscenze, ma devi soprattutto, non tu fare delle conoscenze, ma farti notare. E poi da lì vengono una cosa, tira l'altra. È importante, però, ripeto, non andare a pescare nel mare sbagliato, perché se tu vuoi pescare la trota, devi andare nel fiume, dove ci sta la trota. Non puoi andare nel mare, nel mare le trote non le troverai mai. Eppure ci sono tante donne che cercano di pescare la trota nel mare, non vanno nel lago, non vanno nel fiume, vanno nel mare. E questo non funziona. Devi andare nel posto dove ci sono, uomini ricchi, veri, non quelli che, diciamo, esibiscono il, come possiamo chiamarlo, il loro di inizia, e poi dopo non hanno nulla. Li rigiri, e hanno soldi pochissimi, e debiti tanti. Ecco, quindi, bisogna che tu frequenti luoghi dove, appunto, dicevo, per entrare ci sia un certo, una certa somma da spendere. Questo è quello che fa la differenza. Poi, una volta che tu sei riuscita a, come dire, catalizzare, a trovare l'ambiente, devi farti semplicemente notare. Ora, per farti notare, ci sono tre semplici passaggi, tre semplici cose che tu puoi fare che funzionano, sono molto utili. La prima, è fondamentale, è avere fiducia in se stessa. Cioè, avere la capacità di sviluppare la propria immagine. Sviluppare la propria immagine è fondamentale. Quindi qua, la tua immagine la sviluppi attraverso, poi vedremo altri più dettagli, però, attraverso il sorriso, attraverso la camminata, come cammini, attraverso il tuo linguaggio non verbale, attraverso la socievolezza del parlare. Ecco, quindi, è bene farti vedere in modo indiretto. Cioè, se tu hai docchiato uno e vuoi che questo qua sia tirato da te, tu non devi andare a conoscere lui personalmente. Perché? Ma devi andare magari a chiacchierare, a scambiare qualche parola con qualche suo amico, qualche sua amica. Meglio qualche amico maschio, così genera anche un po' di competizione maschile che c'è. Ma semplicemente, facendo qualche battuta, sviluppando, diciamo, la tua immagine. Quindi darti l'immagine di una donna che sa quello che vuole, che sa quello che cerca, che ha una camminata sicura, che ha un bel sorriso, che ha un bel portamento, che ha un linguaggio non verbale, sicuro, non gesticola nervosa, ma gesticola sì, quando parla, ma lentamente, e soprattutto in armonia. Devi generare quella sensazione, quella percezione di armonia che è quello che ti fa notare in qualche modo. Il secondo punto è l'eleganza. Allora, eleganza non vuol dire avere abiti succinti o avere dei vestiti attillati, anche perché dipende poi dall'età. Ho fatto un video sull'eleganza. Alcuni abbigliamenti dovresti dimenticarteli. Jeans strappati, abiti eccessivamente attillati, oppure oversize. Ecco, l'eleganza dipende molto dal contesto, però è fatta da tanti dettagli. Alcuni dettagli di valore deve averli, cioè qualche accessorio di valore, una borsa che non deve essere poi chissà che cosa, ma deve essere comunque ben curata, l'abbinamento dei vari accessori accessori è anche importante. Quindi l'eleganza devi impararla piano piano, insomma. Vuol dire escludere certe cose e tenerne altre. L'eleganza è anche fatta dal portamento, ma è anche fatta dal... da che cosa? Usi. E il terzo punto è quello più importante, che è composto da tanti fattori, che adesso andremo a vedere. Prima però del terzo punto, ti chiedo di iscriverti al canale. Ci tengo molto che tu ti iscrivi a questo canale, che, ripeto, secondo me potrebbe essere molto utile per la tua crescita personale, in amore, nel lavoro, nelle relazioni. E puoi anche, poi volendo, seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ah, mi raccomando, se ti iscrivi al canale, quando ti iscrivi al canale, attiva anche la campanella, così non ti perdi il video. E il terzo punto, che è il punto fondamentale, diciamo, per farsi notare dagli uomini ricchi, è un qualcosa che spesso viene travisato, viene... non viene visto nel modo giusto, spesso si prendono l'uccella per l'anterna, da questo punto di vista, ed è la femminilità. Ora, femminilità, molte donne la intendono come quasi volgarità, come esibire la mercanzia. Non devi mettere la merce sul bancone, diciamo, scollature esagerate, mini-gonnate esagerate, quella non è femminilità, quella è volgarità. E non va bene. Devi essere curata nei dettagli, le mani devono essere curate, non devono essere trascurate, ad esempio, i cappelli devono essere sempre a posto, ma l'abbigliamento deve essere elegante, non deve essere sciatto, deve essere femminile, quindi che si differenzia un po' dal maschio, ma anche alcuni atteggiamenti devono essere femminili, tipo un linguaggio volgare non deve essere, diciamo, non deve essere manifestato, fondamentale che non manifesti un linguaggio volgare. Non farti vedere sempre a smanettare al telefono, a chattare al telefono, non è femminile troppo, diciamo questo. E poi un'altra cosa, la femminilità è anche essere un po' eteria. Cioè, ad esempio, non farti vedere interessata alle cose materiali, ai soldi, anche se poi magari lo sei, ma devi cercare proprio di non farti vedere. Tieni presente che un uomo ricco magari cercherà di comprarti e quindi tu devi fargli intendere che non sei in vendita una volta che ti ha notata. Ecco, queste tre caratteristiche messe assieme, la fiducia di sé e abbiamo visto lo sviluppo dell'immagine, l'eleganza e la femminità, fanno sì che in qualunque contesto ti muoverai, ma il contesto è fondamentale che trovi quello giusto, farà sì che ti noteranno questi uomini ricchi e quindi si faranno avanti. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ma soprattutto iscriviti al canale. Ciao a tutti!